Ok. Buongiorno, oggi siamo con Daniela De Rosa, giornalista, scrittrice e soprattutto fondatrice di permessola.com. Conosco Daniela De Rosa da tantissimi anni, è nata ad Olsa quando è nata anche permessola.com, per cui sono veramente tanti anni. Lei continua a portare avanti questo progetto e permessola.com, di cui lei adesso ci parlerà. Parliamo con lei dall'Inghilterra, perché lei abita all'Inghilterra, giusto? Dove si è trasferita da molti anni. Lei è nata a Milano, ha vissuto a Venezia, ha studiato a Venezia, però poi a un certo punto della sua vita è nata all'Inghilterra. Allora adesso ti chiederò di parlarci di te. Va bene, allora, buongiorno a tutti. Dunque, sì, io appunto conosco Caterina da tanti anni e devo dire, Caterina, noi siamo state delle pioniere delle donne nel web. Per quanto riguarda me e per me sola, io lavoravo tanti anni fa come giornalista di viaggi, in particolar modo di viaggi, anche se ho fatto tante altre cose. E quindi viaggiavo spesso da sola e mi accorgevo nel corso di questi viaggi che le donne avevano bisogno di strumenti diversi rispetto agli uomini quando viaggiano. E così mi era venuto in mente di scrivere una guida che aiutasse le donne in viaggio, poi contemporaneamente mi ero innamorata del web e la guida è diventata digitale invece che cartacea. Io in realtà inizialmente avevo pensato a una guida cartacea, avevo anche un editore che l'avrebbe pubblicata, però insomma c'è stato questo innamoramento del web. E l'ho chiamata per me sola, avuto subito un tale successo che ho capito che ero andata a coprire una nicchia che allora non era tanto coperta. Adesso si parla molto di più di donne che viaggiano in maniera indipendente. Io ci tengo a sottolineare che non parlo solo alle donne che viaggiano da sole, parlo alle donne che viaggiano, alle donne che viaggiano in maniera indipendente, quindi magari non si raggruppano con viaggi organizzati eccetera. E io trovo che le donne abbiano una curiosità diversa rispetto agli uomini, un'attenzione al bello diverso rispetto agli uomini e quindi con il mio lavoro cerco di tirare fuori queste cose. Con il tempo ho anche capito che la parte femminile del mondo spesso viene messa in secondo piano, quindi io con per me sola voglio tirare fuori la parte femminile del mondo. Che cosa intendo con questo? Se io vado, hai detto che io ho vissuto molti anni a Venezia, effettivamente ho vissuto dieci anni, ci torno ancora molto spesso. Se tu parli di Venezia naturalmente ti citano subito Marco Polo, Goldoni, Vivaldi, ma nessuno ti racconta la storia delle donne veneziane che invece sono state tante, importanti, hanno fatto delle cose anche ai loro tempi rivoluzionarie. È Veneziana la prima donna laureata al mondo, Lucrezia Cornero Piscopia. Ecco queste storie non vengono raccontate. Io lo faccio su per me sola, con le guide al femminile che scrivo o che faccio scrivere delle città, lo faccio con il mio lavoro. Perché penso che dare voce alle donne quando ci si muove per il mondo sia importante. E quindi eh adesso a Venezia com'è la situazione del delle donne secondo te? Beh allora in generale adesso quando noi abbiamo iniziato quando io ho iniziato con per me sola appunto l'argomento era veramente pionieristico. Si adesso si parla si parla molto di più, no? Le donne sono molto indipendenti, soprattutto le ragazze giovani ehm sono molto più indipendenti, vanno in giro, fanno le loro scelte, viaggiano in gruppo. Ecco una cosa che una volta non succedeva tanto era vedere tanti gruppi di donne che viaggiavano. Bisognava andare nei paesi del nord Italia per vedere donne che viaggiavano in gruppetti di donne per non parlare delle donne sole. Adesso invece li vedi dappertutto. Quindi da un certo punto di vista la situazione secondo me è molto migliorata. Tant'è vero che le mie la mia community, le donne che mi seguono non sono le ventenni che forse non hanno bisogno di questo strumento ma da un'altra parte è da poco che che le donne hanno una voce più forte. Da diciamo dal movimento Me Too che si parla tanto di donne. E quindi secondo me c'è ancora molto bisogno di tirar fuori la voce delle donne, giovani o no o meno giovani che siano. In tutti i campi. Esistono tanti siti anche di viaggiotrici sole, solitari. Eh sì. Perché le donne in realtà un tempo non andavano neanche a mangiare fuori la sera. Adesso è molto facile. Sì. Sì. Guarda io sono stata una che ha che è sempre andata per esempio al cinema da sola e continuo a farlo. Io vado al cinema, vado a teatro, vado a dei concerti ma spesso mi sono sentita dire ma ma è ma veramente ma no ma io lo farei non mi sentirei a mio agio avrei paura di essere molestata oppure che noia noia non è affatto noioso. Il cinema è come stare davanti alla televisione. Esatto ma anche fare la diciamo la la turista nella propria città se vuoi la viaggiatrice della propria città. Io poi vivo in una città molto grande che è Londra dove c'è tantissimo da scoprire e ci vivo da sedici anni ma quando credi di averla conosciuta tutta puoi ricominciare a fare il giro perché nel frattempo tutto è cambiato quindi c'è molto da vedere e io faccio esplorazioni urbane di continuo per i fatti miei. Senti eh adesso con la situazione covid e allonga come come si muovono le donne. Beh allora saprai o saprete che qua è stata presa la decisione di mettere il covid un po' in secondo piano. Certo. Da metà luglio sono stati abolite le mascherine che alle all'aperto non sono mai state indossate ma sono state abolite anche al chiuso e e naturalmente i casi sono aumentati tantissimo. Io non sono d'accordo con questa decisione tant'è vero che io la mascherina me la metto quando vado a negozi, quando vado al supermercato, quando vado quando prendo i mezzi pubblici. Qua è stata presa questa decisione si dice che viene monitorato molto da vicino eh il numero dei casi che non il numero dei casi gravi non non sale tantissimo quindi qua si è deciso di considerare il covid una cosa come l'influenza stagionale. Non so che dire, vedo che in Italia è completamente diverso, non so chi ha ragione, non lo so. Non solo in Italia, in Europa? Sì, però vedo che in tutta l'Europa i contagi stanno risalendo nonostante le precauzioni siano maggiori. Quindi ma non lo so veramente chi ha che ha torto e chi ha ragione. Io per quanto mi riguarda porti la mascherina. Sì, porto la mascherina, sono vaccinata, che che devo dire, non lo so. Eviti gli assembramenti. Evito gli assembramenti e forse ecco l'uso di però sai qua c'è una un'idea per cui è oltraggioso chiedere a una persona di provare qualche cosa di personale come essere stati vaccinati. Sai che qua non esiste la carta di identità perché non hanno nessuno il diritto di chiederti chi sei, fammi vedere chi sei. Quindi non c'è la carta di identità, non c'è l'obbligo di portare i documenti con sé quando si va in giro, non c'è il green pass, non lo so. È molto liberale. Sì, molto liberale e quindi molto. Non so se sia giusto oppure no, visto il numero di contagi, boh, non so che dirti. Certo. Però prendo atto e ognuno lo dice. Senti, ma le donne, ti dicevo, le donne durante il covid chiaramente sono state le più colpite, ma non perché si sono ammalate di più, non solo per questo magari, ma anche e soprattutto perché hanno dovuto magari lavorare in remoto, quindi la casa con i figli eccetera. Da voi il lavoro in remoto non esiste? Sì, mamma mia, altro che se esiste. Anzi, c'è stato un periodo in cui sembrava che, diciamo, il centro di Londra sarebbe morto perché tutti lavoravano in remoto, nessuno andava negli uffici del centro e e quindi l'indotto degli uffici, ristoranti, bar, i negozi, boh, sembrava quasi di entrare in una città del fantasma. Adesso sta un po' tornando, perché appunto c'è gente che magari lavora parzialmente in remoto, parzialmente andando in ufficio. Per quanto riguarda la posizione delle donne, per quanto si sentano esattamente le stesse lamentele che si sentono in Italia, quindi il lavoro del casa tutto sulle spalle delle donne, secondo me la cosa qua è un pochino diversa. Si lamentano, si lamentano del soffitto di cristallo, si lamentano della differenza degli stipendi, però c'è meno, c'è meno sproporzione, secondo me. Il lavoro familiare è abbastanza suddiviso, insomma, meno, meno di quello che, di cui le donne si lamentano in Italia. Senti, con per me sola, quali sono le prospettive? Cosa stai facendo? Allora, per me sola, che esistendo da tanti anni, ha avuto un suo percorso e anche un suo cambiamento, da magazine, come si diceva prima fuori onda, non sappiamo bene se chiamarlo magazine, se chiamarlo blog, come lo chiamiamo, non lo sappiamo, però insomma è un posto dove io scrivo delle notizie, raccolgo e scrivo delle notizie e le do in pasto alla mia community. È anche diventata una community, perché una delle rubriche che è sempre stata di più successo, di per me sola, è quella che io avevo chiamato amica di valigia. Cioè, se tu cerchi una persona per fare un viaggio, metti un annuncio, cerco una persona per andare nel tal posto. Con il tempo mi sono accorta che la maggior parte degli annunci non riguardavano donne che cercavano un'amica per fare un viaggio, ma donne che cercavano un'amica, appunto, per andare al cinema, per andare a teatro, per bere un caffè, per uscire a cena. Questo mi ha fatto pensare che effettivamente forse c'è, c'è la ricerca di amicizia, di condivisione. Beh, può essere per esempio che una si è trasferita in un'altra città per lavoro e non conosce nessuno, che esce da una relazione molto lunga e quindi magari perde una parte degli amici, si ritrova a doversi ricostruire. In questo senso, per me solo è diventata anche una community, perché esiste la possibilità di mettersi in contatto con altre donne di simili gusti, di simili attitudini e con la stessa voglia di condividere. E quindi è anche una community. Molto difficile, infatti, molto spesso per le donne, ma anche per gli uomini, trovare le persone con cui comunicare. La comunicazione adesso si sta un po' relazionando diversamente. Cioè, molto spesso la gente scrive, ti scrive, telefona, però poi non si vede. Chiaramente poi la pandemia che c'è stata in questi anni ha peggiorato la situazione. Però la gente ha voglia di incontrarsi. Poi le persone sole vogliono vogliono incontrarsi con altre persone sole che però vorrebbero avere contatti, quindi comunicare con queste persone. Questo è il beneficio della tua community per me sola. Ma in tutto il mondo oppure solamente in alcuni paesi? Guarda, per me sola è nato in Italia e quindi è rimasto italiano a tutti gli effetti. Ogni tanto qualcuno mi dice, ma tu dovresti allargarlo. Però sai, quando fai il passaggio dall'Italia al mondo, beh, è un passaggio veramente grosso, quindi non so se con le mie piccole spalle non so se riuscirei a gestirlo. Quello che volevo dirti è che qualche volta mi è capitato poi di incontrare le persone della mia community, anche se io tendo appunto, anche perché vivo all'estero, eccetera, tendo a fare tutto online. Però mi è capitato di incontrarle. Io ho visto che sono innanzitutto abbastanza, cioè non ci sono le giovanissime, come dicevo, però ci sono le giovani. Non sono soltanto signore della nostra età. Ci sono anche le giovani. E non ci sono soltanto le donne sole. Alcune sono magari single o divorziate o separate. Ma ci sono delle donne sposate il cui marito non ha più voglia di condividere o di fare. Alle donne rimane un'energia che negli uomini si va un pochino stemperando con gli anni. Quindi loro hanno voglia di fare, di viaggiare, di vedere, di conoscere, di mettersi in gioco e di cambiare. Magari i loro compagni no. E hanno capito che è benissimo, si può fare lo stesso lasciando il compagno a casa a fare le sue cose che qualche, non qualche volta, spesso consiste nel sedersi sul divano a guardare la televisione. Perché di questo di solito si lamentano. O leggere il giornale. O leggere il giornale e loro, o la partita, e loro invece si mettono, si mettono in discussione, fanno, imparano cose nuove, viaggiano. Viaggiano a volte anche appunto in gruppetti. E questo mi sembra una cosa bella. Una cosa che quando per me sono nata non esisteva. Non esisteva che una donna potesse, perlomeno era veramente molto più raro che una donna dicesse, vai al marito, al compagno, al fidanzato, io vado. Non era tanto così. Così, me lo dicevano. Era visto male. Senti, tu hai anche due figli, vero? Sì. Nel frattempo cresciuti, come puoi immaginare, e sparsi anche loro un po' per il mondo. Ma vivono a Londra? Allora, uno vive a New York e adesso lo sto per andare a trovare finalmente, visto che da domani, da domani si può andare, io vado dopo domani, eccetera, e lo vado a trovare, studia lì, sta facendo un master, quindi non è una destinazione definitiva, però è là da un anno. L'altro è a Londra, ma ha vissuto in un sacco di paesi, ha vissuto in Australia, ha vissuto in Spagna, e non ha ben deciso quale sarà la destinazione finale della sua vita. E quindi il tuo amore per il mondo, per le lingue, perché tu sei laureata in lingue, no? Sì. A Venezia. Evidentemente l'ho trasmesso ai miei figli, perché non si riesce, non si riesce a tenerli fermi un atto. La stessa cosa, mia figlia piace moltissimo viaggiare, non solo, non per il mondo, ma per l'Europa. Le piace molto l'Europa. Beh, l'Europa è veramente dappertutto. Io non so se riuscirei a vivere in un posto che non è l'Europa. È troppo comodo per viaggiare, è fantastico. E poi, insomma, a me, tutto sommato, la vecchia Europa, con il peso della storia che avverti ovunque tu vada, è affascinante e magari non ce l'hai in altri posti. Senti, ti ringrazio e ringrazio anche per me sola, .com, che il tuo asset, l'ho chiamato io perché è quello che segui da tanti anni e con il quale fai tantissime cose. Esiste anche una newsletter che tu invii alle persone che si scrivono. Sì, ti invi ogni quindici giorni con dentro un sacco di notizie sempre volte al femminile, quindi storie di donne, luoghi visti al femminile, eccetera. Bene, allora vi proponiamo di visitare permessona.com se avete tempo a disposizione. a disposizione e ti mando un grande saluto. Grazie. Spero di vederti quando tornerai, perché tanto si vieni, magari uscirai a Milano. Sì, 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 vengo, vengo abbastanza spesso. Vediamoci la prossima volta volentieri. Assolutamente. Ciao e grazie, a presto. Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.